Benvenuti su MyFootballJersey. Vi piace? Questa è la terza maglia del Milan per la stagione in corso, la 2023-24, in edizione FAN. Grazie a tutti. Una maglia sicuramente fuori dagli schemi. Mi piace molto la sfumatura. Non so se definirla una perla o comunque una maglia un po' troppo, diciamo così, addartata. Ditemi voi nei commenti cosa ne pensate. Il costo comunque lo vedete qui sopra. Beh, su questo non si discute, è veramente un affare. Qua sotto, in descrizione, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Ora vi lascio la parte finale. Prima però iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di mostrarvi tutti i giorni recensioni come questa. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FUN.